Ormai nessuno torna più tardi la sera. C'è molta più polizia in giro. Il governo ha notato che si stavano spostando in nuove zone. La situazione è diventata ingestibile. Non sono di qui. Spendono un sacco di soldi per tenerli qui, quando potrebbero spenderli per altre cose. Almeno li tengono separati da noi. Hanno cominciato a verificarsi cose spiacevoli. Devono andarsene, non so dove, ma devono andarsene. Siamo a un punto di rottura. La gente vive nel terrore. Perché siete qui? Perché non ve ne andate? Come funzionano le vostre armi? Voglio che lo guardiate tutti, per imparare da quello che è successo. eccoci stirruzzi. Grazie.